Nell'ambito di un'operazione denominata Penelope, la Guardia di Finanza di Clusone ha portato alla luce un giro di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio dei filati, stimato complessivamente in 270 milioni di euro, che ha generato un conseguente danno per l'erario di 40 milioni di euro. Il servizio ha avuto origine da una verifica condotta nei confronti di una società di cene. I militari, insospettiti dall'improvvisa esplosione del volume d'affari avvenuta nel corso dell'ultimo biennio, hanno approfondito e ampliato gli accertamenti arrivando a scoperchiare un ingente giro di false fatturazioni anche al di fuori del territorio nazionale. Il principale meccanismo fraudolento prevedeva l'illecito sfruttamento di soggetti economici appositamente costituiti sia in Italia che all'estero, gestiti da prestanome. Il carosello delle fatture false partiva da soggetti economici italiani, proseguiva attraverso una serie di società filtro appositamente costituite in Polonia e in Slovacchia per poi tornare sul territorio nazionale attraverso una serie di società cartiere ed infine si concludeva presso le medesime imprese che avevano dato inizio al giro, il tutto senza che vi fosse reale movimento di merce. In questo modo, sfruttando i benefici previsti dalla normativa sulle operazioni intracomunitarie, il suo dalizio trasferiva un ingente credito IVA nelle casse dei beneficiari finali. Le indagini, che hanno coinvolto 96 società italiane e 12 estere, hanno portato alla denuncia di 58 persone, 15 delle quali accusate di associazione per delinquere. 6 società sono state sottoposte a verifica direttamente dalla tenenza di Clusone, mentre sono state inviate 90 assegnalazioni ai reparti competenti per territorio. Delle persone denunciate, 6 sono residenti in provincia di Bergamo, 9 in provincia di Milano, 16 in provincia di Varese, 8 in provincia di Biella, mentre i restanti soggetti sono residenti in varie parti d'Italia, con maggiore concentrazione al nord.